Buongiorno a tutti, mi spiace perché la collega purtroppo per un problema di salute non ha potuto essere presente, mi presento, sono Amalia Fontanella, una dirigente delle professioni sanitarie, ho svolto la mia attività sia presso l'US4 che presso l'US3 come responsabile dell'area territoriale delle professioni sanitarie. Quello che vogliamo presentarvi oggi è proprio questo servizio di infermieri di famiglia che ormai ha una storia di tre anni per cui fra poco riusciremo anche ad avere i primi dati dell'esito di questa nuova organizzazione, nuova presa in carico territoriale. Allora, chi è questo infermiere di famiglia? Quando siamo partiti nel 2021 diciamo che la definizione dell'OMS e il Chronical Care Model ci ha ispirato per l'avvio di questo servizio, dopodiché le normative nazionali e regionali hanno diciamo supportato l'implementazione del servizio stesso. L'infermiere di famiglia è un infermiere che ha una preparazione post laurea di base specialistica, accademica, dove la parte diciamo dell'approccio di iniziativa per cui la proattività, l'essere team leader e non solo dell'equipe ma anche del nucleo familiare del paziente stesso e consulente poi per la comunità diventa fondamentale. Si sviluppa poi all'interno della casa della comunità con i servizi di infermieri di famiglia o comunità dove ci sono degli infermieri di comunità e degli infermieri di famiglia. Qual è il target della popolazione a cui si riferisce l'infermiere di famiglia? È una popolazione sicuramente di pazienti cronici. Come abbiamo visto fino adesso è la popolazione che avrà più bisogno e ha già bisogno adesso ma da adesso in avanti con quella cronicità semplice perché la presa in carico è proattiva. Non sono pazienti già presi in carico da altri servizi e mi riferisco all'Adi in questo caso dove la cronicità è già avanzata e complessa e i pazienti hanno bisogno sicuramente di una gestione di una cura molto particolare per tutti i device che hanno e una gestione di una cura particolare legata proprio all'assistenza H24 con tutta l'educazione al caregiver. I pazienti presi in carico dall'infermieri di famiglia hanno una cronicità semplice dove nella popolazione generale il paziente si autocura cioè c'è l'autocura che è un diabete uno scompenso eccetera viene gestisce da sé la propria patologia. Nel momento in cui invece c'è una difficoltà nel trovare le strategie di salute e curarsi ecco che in questo caso interviene l'infermiere di famiglia. Qui c'è una stretta sinergia con il medico di medicina generale una stretta collaborazione per la cura della patologia cronica che va sia dall'identificazione di segni e sintomi per la valutazione precoce delle eventuali ricadute e sia per quanto riguarda poi la parte terapeutica per cui l'aderenza alla terapia vista a 360 gradi non solo la terapia farmacologica ma legata allo stile di vita l'alimentazione la mobilizzazione la cura di sé e così via. Non solo con il medico di medicina generale nel seguire le patologie croniche ma con tutti gli specialisti ospedalieri per il diabete i centri antidiabetici la cardiologia gli specialisti ambulatoriali che abbiamo visto che faranno parte della casa della comunità. La stretta sinergia poi anche con gli altri professionisti sanitari del territorio ospedaliere quali fisioterapisti logopedisti dietisti questo permette di avere una presa in carico a 360 gradi ecco che l'infermiere di famiglia in questo caso il team leader proprio per organizzare l'assistenza al paziente di tutti gli altri professionisti e fa da tramite naturalmente con quelli che non sono a domicilio del paziente o in ambulatorio con il paziente. L'altra parte dell'assistenza e socio assistenziale la stretta collaborazione viene fatta con i servizi sociali del territorio comunali per cui con l'assistente sociale con tutte le risorse del territorio soprattutto le associazioni di volontariato e la parte diciamo socio assistenziale che si sviluppa e si integra in modo da dare maggiore autonomia alla persona. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di portarlo all'autocura, alla autonomia e lo stato di benessere e di salute per la prevenzione di ricadute della patologia cronica andando a individuarle precocemente. Naturalmente vediamo fra gli obiettivi questi risultati attesi sono previsti dalla normativa regionale sono quelli di migliorare la qualità della vita per cui queste non sono persone che hanno bisogno di un caregiver ma sono persone che spesso vivono da sole o vivono in una famiglia in cui i figli magari durante la giornata sono fuori o vivono lontano eccetera ma sono in grado o possono essere in grado di gestire la propria patologia se aiutati per cui l'infermiere di famiglia lo fa in questo modo lo fa nella parte sanitaria con il medico di medicina generale con gli specialisti e gli altri professionisti della salute e nella parte socio assistenziale con gli assistenti sociali gli educatori gli operatori del territorio e le associazioni volontariato c'è questa grande sinergia il servizio che adesso le colleghe che sono due infermieri del servizio infermieri famiglia del distretto 1 dove siamo partiti appunto nel 2021 vi illustreranno è un esempio è stato uno dei primi esempi in regione veneto poi ce ne sono articolati diversi diversi altri sicuramente a livello nazionale ci sono altri esempi di infermieristica di famiglia strutturati in maniera diversa ma perché come dicevano i relatori che mi hanno preceduto bisogna adattare al contesto sia territoriale che sociale dove vengono inseriti i servizi venezia centro storico isole aveva una sua caratteristica è stato scelto quel quell'ambito territoriale su cui si è partito con questo servizio perché abbiamo visto la il maggior numero di pazienti cronici anziani erano in quel territorio abbiamo avuto la fortuna che in quel momento siamo riusciti a diciamo a dirottare 12 infermieri che erano stati reclutati per la pandemia in questo servizio adesso faremo molta più fatica ad attivare un servizio di questo tipo visto la carenza di personale però questo è un servizio che sicuramente fa storia e si andrà a vedere gli esiti del servizio stesso lascio la parola alle colleghe per la descrizione del servizio stesso buongiorno a tutti io sono marinella elisa e come diceva la dottoressa fontanelle sono una delle infermieri del servizio infermieri di famiglia di venezia perché a venezia nasce a venezia perché dopo lo studio della popolazione over 75 si è visto che è ben superiore è superiore alla media aziendale del 14 per cento quindi nasce lì e in più perché il territorio non presentava e non presenta tuttora medicine di gruppo integrate siamo un gruppo di 12 infermieri di famiglia suddivisi per sestrieri e siamo assegnati abbiamo in carico tutti gli utenti che afferiscono i medici medicina generale che sono stati assegnati in base al territorio che copriamo questa è la discollocazione di come siamo suddivisi noi nell'isola e nel centro storico l'utenza che abbiamo in carico deve avere dei criteri il criterio almeno uno pazienti o 65 anni con malattie croniche che abbiano una o più malattie croniche sì che rappresentano l'attività della pubblicità che siano con una scarsa aderenza alla terapia o una scarsa autocura non devono essere pazienti allettati o già in carico ad altri servizi come l'assistenza domiciliare alcuni dati attualmente abbiamo in carico 790 utenti dal 2021 quando è partito il progetto sono stati presi in carico 1337 utenti da gennaio di quest'anno le nuove prese in carico sono state circa 200 visite che abbiamo effettuato tra gennaio e giugno sono state 5454 di cui solo 145 ambulatoriali e questo serve a sottolineare la necessità e l'importanza di arrivare a domicilio in questo territorio così bello ma particolarmente difficile per gli spostamenti lascio la parola alla collega che continua io sono seglia donà e sono un'infermiera di famiglia appunto allora l'atteggiamento che caratterizza il nostro approccio che orienta il nostro approccio con gli utenti è quello della proattività ovvero quello di anticipare quello che potrebbe essere un problema un bisogno cioè prima che questo si manifesti quindi abbiamo il compito di intercettare riconoscere i bisogni ed è per questo che è fondamentale per noi conoscere il territorio dove lavoriamo e dove prendiamo in carico gli utenti perché conoscendo i servizi che sono a disposizione per l'utente siamo anche in grado di facilitare un accesso che sia tempestivo e anche idoneo rispetto al servizio che è necessario per l'utente e quindi nella gestione del paziente cronico che sono appunto i pazienti che noi prendiamo in carico tutto parte da una presa in carico condivisa dell'utente col medico di medicina generale le attività che svolgiamo sono quelle di seguire l'utente aiutandolo nella gestione della terapia quindi valutando che venga assunta correttamente oppure nella gestione dei parametri vitali rispetto alla patologia e aiutarlo nella continuità delle visite che vengono programmate anche tramite PDTA avvalendoci dello strumento fondamentale del nostro lavoro che è il colloquio motivazionale ma anche di alcune scale di valutazione di cui ci serviamo l'obiettivo più grande è quello di creare con l'utente una relazione che porti a un cambiamento per corretti stili di vita il tutto con l'obiettivo primario di mirare all'autocura alla prevenzione e alla promozione della salute affinché non si manifestino appunto determinate problematiche a cui si potrebbe incorrere per la precisa patologia ovviamente tutto ciò coinvolgendo non solo l'utente ma anche i caregivers o i familiari di riferimento ovviamente ci occupiamo molto dell'attivazione delle risorse della comunità che dobbiamo conoscere in maniera capillare ognuno per il suo sestiere e perché noi vorremmo miriamo anche secondo il DM77 a una gestione partecipativa dell'utente anche nelle realtà di volontariato di associazioni che ci sono sul territorio proprio perché per salute si intende tutta la sfera della persona non solo la stabilità clinica e quindi che coinvolga tutti gli attori che ruotano attorno alla persona allora l'attivazione la nostra attivazione avviene anche tramite altri attori ovvero tramite i servizi ospedalieri per esempio alcuni reparti in fase di dimissione o anche da altri servizi con cui noi collaboriamo quotidianamente ad esempio l'assistente sociale tutti i servizi comunali e ovviamente dopo che viene fatta l'assignalazione la nostra presa in carico viene condivisa col medico di medicina generale per cui successivamente inizia la nostra valutazione dove contattiamo noi personalmente l'utente e ci accordiamo sulla visita. Le prospettive future riguardano la digitalizzazione adesso abbiamo iniziato da poco con una teleassistenza e alcuni dei nostri colleghi hanno iniziato a fare delle televisite con gli utenti che ci consentono di promuovere una continuità assistenziale anche quando le distanze o alcune condizioni non ce lo consentono in maniera tra l'altro molto facile ovviamente per i pazienti che riescono a usare dispositivi anche se è molto facile perché basta cliccare sul link e si apre la videovisita o con l'aiuto dei caregiver su coloro che si occupano della salute del paziente che seguiamo.